Nella suggestiva cornice dell'auditorium Alessandro Amarelli si è tenuta la prima presentazione regionale del libro Oikofobia, il ripudio della nazione, di Spartaco Pupo, professore di storia delle dottrine politiche all'Università della Calabria. Sono intervenuti Pina Amarelli, promotrice del Made in Italy, l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo e il giornalista Marco Lefosse, lavori coordinati da Lenin Montesanto, comunicatore strategico e lobbista. La discussione è ruotata attorno al concetto di oikofobia, termine che l'autore Spartaco Pupo ha utilizzato per indicare il ripudio dell'appartenenza culturale, il distacco dalle tradizioni e la sminuizione del patrimonio culturale. L'avere vergogna di noi stessi, ripudiare la nostra personalità, il nostro noi, i nostri legami di prossimità. Questo universalismo di ritorno che ha prodotto solo individui sradicati, alienati, per molti versi anche drogati e malati, dovrebbe far riflettere tutte quelle culture, ideologie, e narrazioni che hanno sradicato gli uomini dalla propria appartenenza. La Calabria è uno di quei territori maggiormente a rischio perché, per tante ragioni, le istituzioni culturali fanno poco per la valorizzazione del patrimonio d'appartenenza e sono affetti da questo complesso di inferiorità nei riguardi delle culture altre. Questo libro dovrebbe essere letto, studiato, portato nelle scuole, spiegato nelle scuole elementari, nelle scuole medie, chiaramente all'università, portato in giro perché è un breviario antivirus, è un antidoto. Dovrebbe essere appunto spiegato per far capire qual è il problema che ci portiamo dietro e che ci impedisce di essere autenticamente calabresi così come sono autenticamente emiliani gli emiliani, autenticamente liguri i liguri e tutti gli altri concittadini italiani delle altre regioni. Non dobbiamo essere più nemmeno che avere l'orgoglio identitario delle altre regioni. Il problema è che noi riteniamo sia poco più grave di quello che analizza questo in maniera grecia. È la patologia nazionale, non capiremo perché. Ce ne sarebbero tante. Per esempio smettere di finanziare con risorse pubbliche tutto ciò che non ha nulla a che vedere con l'identità calabresa. Anzi, io penso proprio se fosse per noi, noi pensiamo che se ne dovrebbe occupare la Corte dei Conti perché non è possibile spendere milionate di euro dei calabresi per promuovere identità, costumi, tradizioni e visioni del mondo che non sono calabresi. Il privato se lo può permettere, il pubblico no. L'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo ha sottolineato l'importanza dell'unità, sia a livello regionale che nazionale, e ha invitato a superare le divisioni e a mettere da parte la paura dell'altro, promuovendo alleanze e collaborazioni nel settore dell'enogastronomia e in altri ambiti. L'obiettivo è quello di lavorare insieme per creare nuove opportunità e affrontare le sfide che il futuro presenta. Paura dell'altro, c'è un po' di paura di tutto ciò che invece non dovrebbe costituire paura per i calabresi, che invece dovrebbero lavorare fortemente ad un momento di aggregazione cercando poi di andare anche nel mio settore, nel settore agroalimentare, alla ricerca di mercati di riferimento diversi. Pina Amarelli ha condiviso la sua visione di ricostruzione delle radici culturali, condannando il rigetto delle origini che ha arrecato danni alla regione. Tuttavia ha sottolineato che la Calabria sta cercando di ricostruire ciò che è stato perso e di riscoprire il suo valore autentico. Questa forma che c'è stata, un po' di rigetto delle proprie origini, che invece è assolutamente condannabile ed è quello che finora ha creato anche dei danni a questa terra, ma mi pare che stiamo cercando di ricostruire con molta attenzione, molta pazienza, devo dire anche sensibilità da parte delle istituzioni. Fortunato Amarelli, amministratore di Liquirizia Amarelli, ha sottolineato l'importanza di vedere la bellezza e il valore di una regione straordinaria come la Calabria. Ha enfatizzato che apprezzare il proprio territorio è essenziale per essere ospitali e accoglienti, contrastando il disprezzo che può nascondere le ricchezze della cultura locale. Non si può non guardare alla realtà di questo territorio senza vederne anche il bello. Ecco, allora chi non è oicofobico riesce a vedere questo, riesce a vedere il bello che c'è in questo territorio e quindi lo promuove. L'evento ha affrontato questioni profonde sulla cultura, l'identità e il rapporto con le radici. La voce di Spartaco Pupo, insieme alle riflessioni dei partecipanti, ha offerto uno spunto di riflessione su come preservare e valorizzare l'identità culturale in un mondo in rapida evoluzione. Grazie. 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 Grazie.